Attenzione ragazzi eccoci qui oggi con un video velocissimo perché non so se ricordate l'altro giorno su Instagram abbiamo messo una storia sul fatto che mi mancavano alcune biglie per completare l'intera collezione e quindi avevo chiesto se qualcuno le aveva in più a catto Eh? Sì vabbè avevo chiesto se qualcuno le avesse magari che ne so che non mi servivano eccetera eccetera così almeno senza che andavo come al solito perché come faccio sempre per comprare cose della collezione andavo sempre fuori Italia dico boh proviamo a vedere un attimo se qualcuno in Italia stavolta ce l'ha e invece mi hanno sorpreso perché sto sincero non me l'aspettavo ma c'è stato qualcuno che mi ha scritto dicendo che aveva alcune biglie diciamo che una decina quindicina di persone Mi hanno solo fatto perdere tempo nel senso sì hanno buttato un po' in chiacchiere ma alla fine non ci avevano neanche diciamo le foto da mandare delle biglie mentre qualcuno ci ha provato nel senso qualcuno aveva delle biglie però purtroppo non erano quelle che mi mancavano perché me ne mancano appunto diciamo una decina e invece ragazzi ecco qui attenzione perché queste sono biglie che non solo mi mancavano ma allora aspettate allora sono solo due quindi facciamo presto abbiamo qui in condizioni spettacolari abbiamo Dragonite non so se si vede Dragonite che va a sostituire il Dragonite che già c'avevo ma era in lingua francese quindi biglia francese non so neanche io come ho fatto a trovarla e poi qui abbiamo invece lo Snorlax mancante eccolo qua tra l'altro su biglia verde quindi top a prescindere e non solo queste due biglie mi mancavano ma addirittura me le ha regalate quindi ringrazio ringrazio Milko che non solo mi ha regalate ma pure la spedizione ha regalato mi ha regalato due biglie che mi mancano per la collezione e più non ho dovuto neanche pagare la spedizione quindi grazie per queste due biglie e le altre purtroppo appunto nessuno le aveva e quindi dovrò optare come sempre con il comprarle fuori Italia e niente questo è un video molto breve più che altro l'ho fatto per ringraziare delle biglie che mi ha regalato che apprezzo tantissimo questo regalo e niente per oggi è tutto Lex Crabbe Chef è tutto quello che volete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti